Ciao a tutti, sono Ruana Sbalbi di Ponte dell'Olio, ho vinto la fascia di Miss Piacenza e la fascia di Miss Cotonella d'Emilia Romagna 2015. Buongiorno a tutti, sono Giulia, ho 24 anni, lavoro come hostess in ambito fioristico congressuale e quest'anno ho deciso di partecipare a Miss Italia. E' stata una sorpresa per me l'elezione di Miss Cinema due giorni fa, non me l'aspettavo assolutamente, infatti come avevo già detto ero già tornata nei camerini e stavo già praticamente tornando a casa. Ho sentito il nome, sono corsa fuori e tutte le altre ragazze, Giulia ti stanno chiamando e non me l'aspettavo assolutamente. L'anno scorso a portare Piacenza sul terzo gradino del podio di Miss Italia era stata Giulia Salemi, quest'anno tocca ad altre due bellezze piacentine che sono in partenza per Jesolo, dove dal primo settembre cominceranno le prefinali Giulia Urbani e Luana Sbalbi. Non sappiamo ancora in cosa consisteranno questi quattro giorni, ci hanno detto che ci saranno delle prove, bisognerà fare delle coreografie e poi ci saranno anche le eliminazioni, vedremo, speriamo in bene. E' stressante sfilare davanti a una giuria? E' abbastanza, puoi non solo sfilare ma anche poi parlare in qualche modo, hai pochissimo tempo per farti conoscere, cioè ci sono tantissime ragazze e tu hai una frazione di minuti per farti conoscere e far capire la tua personalità, chiaramente non è semplice perché non sai se essere ironica, se essere simpatica, se fare quella disinvolta invece. La mia arma in più è l'eleganza, credo, e poi diciamo anche forse lo studio che quello sicuramente aiuta, aiuta nel porsi, aiuta anche nel sapersi gestire, quindi credo che sia un'arma in più rispetto magari a altre ragazze un po' più giovani, ti lo so. Però il possibile per tenere alto la bandiera della nostra città. La conosco già da un po' di tempo, posso garantire che è una ragazza umile e molto simpatica e poi la bellezza perché è bella, è obiettivo, quindi quello. Luana? Posso dire la stessa cosa perché comunque aver la fortuna di averla già conosciuta, comunque so il suo valore, quindi... Però la cosa bella è che non ho competizione, cioè nel senso sono contenta che ci sia anche lei. In bocca al lupo! 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 Grazie a tutti.